Questa mattina militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno dato esecuzione ad una misura cautelare personale agli attesti domiciliari a carico di Enzo Sindoni, imprenditore ed ex sindaco di Capodorlando per diversi mandati. L'indagine condotta alle fiamme gialle della tenenza della Guardia di Finanza di Capodorlando sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, durata oltre due anni, ha ricordato principalmente condotte di bancarotta fraudolenta concernenti tre società, tutte con sede a Capodorlando, attive nel settore delle comunicazioni, nella commercializzazione degli agrumi e nella gestione di una società sportiva di basket. Le indagini, anche con intercettazioni telefoniche, avrebbero documentato come l'imprenditore amministrasse le società insieme ad altre tuttora attive attraverso diversi prestanove, senza mai apparire come rappresentante legale. Sono stati accertati nel dettaglio circa 86 milioni di euro di debiti, in gran parte con le radio, causando un ingente ammanco per le casse pubbliche. Sin Doni, scrive alla Guardia di Finanza, dopo aver condotto le società scientemente al fallimento con il concorso delle galli rappresentanti prestanome, le ha svuotate e ha continuato a gestire le nuove imprese costituite, adottando anche per quest'ultime le stesse strategie distrattive delle risorse a proprio vantaggio, ovvero a favore di società all'urriconducibili. Per l'imprenditore, ex patrone dell'Ollandina di basket, è stato chiesto alla procura di patti rinvio a giudizio, oltre che per le tre bancarotte, anche per retti tributari, truffa e danni allo Stato e minaccia rivolta ad un curatore fallimentare. La richiesta di misura cautelare era stata avanzata alla procura di patti in un primo momento, rigettata al GIP per la ritenuta in sussistenza delle esigenze cautelari. A seguito di appello proposto dal pubblico ministero titolare delle indagini, il Tribunale del Riesame riconosceva invece sussistenti le esigenze cautelari, ordinanza poi confermata alla Cassazione che ha ritenuto inammissibile il ricorso della parte, rendendo esecutivo il provvedimento che applicava gli arresti domiciliari.